La creazione di un percorso archeologico, turistico e culturale di visita guidata nei siti di maggiore interesse storico come l'Opera Idraulica della Grangela, la Tolos e i rifugi antiaerei di Via Marconi, il Pozzo Gradiglia all'inizio della strada San Michele, il Museo Archeologico di prossima apertura ed eventuali altri siti che si renderanno fruibili a breve. E' questa l'iniziativa al vaglio di Palazzo di Città in vista dell'ormai imminente arrivo della stagione estiva. Diversi contatti già presi per permettere l'effettiva realizzazione del progetto con le strutture ricettive presenti in città al fine di firmare un protocollo d'intesa propedeutico all'accoglienza dei turisti che arriveranno. Il vice sindaco Angelo Cambiano e l'assessore allo sport, spettacoli e turismo Massimo Licata d'Andrea hanno inoltre emesso un'ordinanza diretta alla dirigente del Dipartimento Servizi Sociali e Finanziari con la quale sono stati disposti alcuni adempimenti. Verrà intanto predisposto un bando pubblico per selezionare un soggetto a cui affidare la gestione delle visite guidate durante le quali sono previsti spettacoli legati alla tradizione del territorio e degustazioni enogastronomiche. Dovranno essere curate la manutenzione, la pulizia e la tenuta dei beni in modo decoroso e consono alle finalità dell'ordinanza. Al Pozzo Gradiglia dovrà essere prevista la presenza di un animale da soma per azionare l'antico meccanismo di movimento delle acque. Sempre nell'ordinanza a firma dei due amministratori è stato specificato che il servizio venga garantito nelle fasce orarie 10.13 e 18.22 e che il prezzo del biglietto per il complessivo servizio di visita guidata non superi 5 euro a persona.